I medici sono eroi senza mantello. Portano sul volto l'impronta della mascherina, così stretta da lasciare segni che non vanno via. Hanno negli occhi la stanchezza di chi non si ferma mai, di chi è costretto a fare due o tre turni senza riposare. Perché ci sono giorni in cui quel camice pesa come un macigno. Giorni in cui il destino di una persona è steso sopra un lettino. Come una vita pesa un filo che tende dalle loro mani. Ma mai, mai, nemmeno per un singolo istante c'è il rischio che la passione per il loro lavoro possa venir meno. Non si tratta di essere eroi. Oggi un paziente mi ha stretto forte la mano e mi ha sussurrato di non lasciarlo. No che non ti lascio. Non ti lascio da sola. Mai cascassi il mondo. E noi ci chiedono di fare solo la nostra parte, per quanto semplice che sia. Dobbiamo starcene a casa. E a loro va la nostra promessa di rispettare le regole. Di svuotare strade, piazze, parchi, bar, negozi. Per impedire a questo maledetto virus di continuare a propagarsi. A loro tutti va una semplice parola. Grazie. 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 Grazie a rincorrere un altro miraggio. Capire che adesso è tutto ciò che avremo. Capire che adesso è tutto ciò che avremo. Capire che adesso è tutto ciò che avremo. E tu che nome dai al tuo coraggio? Non voleremo ammettere che...